Pietro Canella, allenatore degli Orizzonti United 2002, che in questo torneo Forza Ragazzi si è classificato terzo. Come giudichi la prestazione dei tuoi ragazzi in generale? Io direi assolutamente ottima. Adesso il fatto di essere arrivati terzi e di non essere riusciti a vincere perché a noi bastava solo un pareggio, però onestamente nell'ultima partita non ne avevano proprio più. E quindi più di questo non possiamo chiedere. Poi sono ragazzi, si sono divertiti, adesso nello spogliatoio sono sereni. Questo per noi è quello che conta. In ogni caso nell'ultima partita avete perso di misura, avete messo in difficoltà una squadra come la Provercelli. Certo, questo l'ha sottolineato lei. Stavamo giocando di fronte alla Provercelli, fin quando siamo riusciti a tenere l'abbiamo tenuto. Abbiamo preso un gol fortunoso e poi abbiamo tentato tutto per tutto e poi chiaramente erano in contropiede. Poi questa è una grande squadra Provercelli. Noi non ci possiamo lamentare anche con l'altro mister, Ivo Moscovini, che eravamo in panchina tutti e due insieme, che ha il 2002 di Tonengo. Siamo più che soddisfatti della prestazione oggi dei ragazzi e delle partite che hanno fatto. Adesso avete altri tornei in programma? Sì, adesso stiamo continuando un altro torneo a settimo. Sabato e domenica iniziamo un torneo a Ciriè, sempre per il 2002. Lì iniziamo un'altra avventura. Poi il vostro campionato come sarà strutturato? Sarà strutturato in che senso? Come squadre, ci sono due squadre iscritte. Noi faremo il campionato, presumo che giocheremo di sabato, ancora non ho notizie proprio certe. Il gruppo di Ivo Moscovini giocherà domenica e insieme stiamo collaborando moltissimo per cercare di far crescere il più possibile questi ragazzi all'unisono, in modo che quando ci si trova a dover amalgamare sia da una parte sia dall'altra, siano pronti e già comunque è un buon gruppo.